Il 70% delle donne accolte dai centri antiviolenza ha figli minorenni e maggiorenni e sono più di 100 i minori che hanno assistito alla violenza in casa. I bambini che vivono in contesti violenti provano paura per l'incolumità loro e della madre. Questo sentimento di impotenza può generare un forte senso di colpa per non essere riusciti a contrastare la violenza o perché pensano di essere la causa della lite tra madre e padre. Ogni maltrattamento produce un trauma, se sperimentato in tenera età e in modo ripetuto nelle relazioni primarie. Assistendo alla violenza del padre sulla madre, i figli interiorizzano modelli disfunzionali basati su sopraffazione e potere. Modelli che possono essere evitati con un intervento tempestivo e riparativo. Grazie a Intesa San Paolo e alla tua donazione potremo realizzare il progetto Voci. Sosterremo le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che hanno vissuto, stanno vivendo una situazione di violenza in casa.